Spettabile Mercedes, questa lettera fa seguito all'offerta fatta alcuni giorni fa da una vostra concessionaria. Avendo deciso di cambiare la mia auto, ho visitato un vostro punto vendita per vedere da vicino la coupé che avete appena messo sul mercato. Dopo avermi mostrato la vettura, il venditore me ne ha spiegato le caratteristiche principali, poi mi ha invitato ad una prova su strada e mi ha convinto immediatamente. Prima ancora di ingranare la quinta marcia, avevo già deciso di comprare la nuova SLK. L'auto è potente, elegante, comoda, silenziosa, insomma, è ciò che cercavo. Inoltre ho potuto apprezzare il fatto che inquina poco, grazie alla sua innovativa marmitta. Non avevo mai guidato una Mercedes e vi confesso che nell'abitacolo di quella macchina mi sono sentito qualcuno. Ho capito che al semaforo, fuori dai bar, nei parcheggi, i pedoni danno sempre un'occhiata a chi sta guidando una Mercedes, specie se si tratta del modello che ho provato. Sembra che guardino attraverso il vetro e pensino chissà chi è il fortunato che guida quella SLK. Per non parlare degli altri automobilisti che non riescono a nascondere una punta, ma forse dovrei dire tre punte, di invidia per chi guida le vostre auto. Ma veniamo al motivo di questa lettera. Se avessi comprato l'auto, non ci sarebbe stato bisogno di scrivermi. La ragione per cui ho deciso di non comprarla è ciò che è accaduto quando, terminata la prova su strada, sono tornato nei vostri uffici. Il venditore mi ha subito comunicato che, per l'acquisto dell'auto, dovevo versare un certo importo. Esso corrispondeva più o meno ad uno dei miei stipendi. Ed era solo un racconto. Alla consegna avrei dovuto versare il saldo, senza il quale non avrei potuto ritirare l'auto. La somma, fra conto e saldo, corrisponde a circa 40 delle mie mensilità. Ora, non posso fare a meno di osservare che lo trovo di pessimo gusto. Chiedermi del denaro, per quanto bello sia l'oggetto in questione, mi apparsa una scorrettezza. Secondo il venditore, avrei dovuto consegnarvi una somma talmente ingente. E tutto ciò per possedere, alla fin fine, un'automobile. Cioè, una cosa che mi porta da qui all'altra. Saprete anche costruire vetture, ma l'arrivare a pretendere del denaro trovo che mi similisca profondamente. Forse la colpa è mia. Vedendo tutta la pubblicità che fate sui quotidiani, avevo creduto ci deneste davvero a che io possedessi una vostra auto. Invece scopro che lo scopo ultimo è che voi possediate i miei soldi. Tutte quelle belle frasi che usate per descrivere le vostre auto e le sensazioni che esse ci fanno provare, hanno il solo fine di farmi lavorare per voi per più di tre anni. Ammettete, è da maleducato invitare qualcuno con tanta esistenza e, dopo, chiedergli del denaro. È come se io vi portassi a cena e poi vi presentassi il conto. Ho ringraziato il venditore e me ne sono andato. Lui si è dimostrato molto dispiaciuto della mia sorpresa. Mi ha persino detto che ero il primo a fargli notare una cosa del genere, ma che lui non poteva permettersi di regalarmi la vettura, soprattutto avendolo usato da ritirare. Io ero già sulla porta quando ho dovuto spiegare di chi c'era un pivolo. Non gli stavo affatto proponendo un regalo. Era la concessionaria che doveva dare a me dei soldi. Analizziamo freddamente la cosa. Io esto di casa, arrivo fino al vostro punto 20, faccio una prova di guida alla vostra vettura. Vi lascio dei commenti. Sono perfino disposto a portare in strada un'auto con il vostro marchio per anni? Vi lascio anche la mia macchina e voi, per ringraziarmi, non mi date nemmeno un po' di soldi? Ma se non è maleducazione questa, se non volete darmi la vostra SMK, sapete che vi dico? Guidatevela da soli. Tenetevela nei vostri depositi. Lasciatela a coprirsi di polvo. Vi lascio con queste parole, dandovi l'opportunità di fare un profondo esame di coscienza e ricordandovi che, se doveste cambiare idea, il mio recapito ce l'avete. Sono perfino disposto a riconsiderare la possibilità di accettare la SLK, rinunciando a pretendere denaro da voi. E per premiare la vostra redenzione, mi spingerei fino a regalarvi la mia vecchia acqua. Corvo i miei distinghi saluti.